Oh cazzo Che ho detto? E che ne sapete? E come vado a saperlo? Siamo andati a vedere le cose là C'è i più forchi da queste cose No, sta di I più forti da PC Quali sono? E ti voglio vedere Oh cazzo Oh cazzo Ho perso tutti Raga ma mi dovete insegnare sulla mira? Oh cazzo Se vuoi te lo insegno io che sono un maestro io Io non lo sapevo Io non lo sapevo Io gli ho insegnato i trucchetti a lui E me lo ha detto PORCA MIGNOTA PORCA MIGNOTA PORCA Nooo Oh cazzo Cazzo che fai ci mo' Gaah Ahah Ha detto martedì Devi dare parte a lui PORCA va caricata a due ladi Oh cazzo c'è solo sulla di attesa dicendo anni ma nessuno ha detto a cazzo di cani ma che cazzo ma perché mi metto il pompa raga io devo andare a mk devo andare a questa tastiera aspettate ok raga sono andata a mano trenta l'ho la sessantadue porca t'ho fatto il pelino mattin sono me mattia da dim sono andato si è da dimmi lo faccio io nooo lui credo cioè lui è da poco e già va capito quindi li facciamo battere tipo due volte uno ok 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 ma spazio mi metto a cercare raga ma settasera io c'ho una mira del cazzo ma R in travia R o va bene pure Scarra? ok dai che mira non c'era una crema no no facciamo vedere solo in pubblico raga aspettate che quando ci stanno i peccolini facciamo trovare solo nella pubblico ti ho detto due perchè lui da poco gioca però nelle singole le devi fare tre ma perchè ci stanno pure i pesciolini eh appunto io non li ho trovati e io non li trovo non li ho trovato e si che miserable questo è il tournay, questo è il tournay sto giocando veramente la nostra testiera senza scherzare però poi non so se è vero, cioè è vero che siamo i secondi più forti in italia infatti io all'anno gli devo imparare qualche altra cosa però se non questa season deve migliorare da joy bud, perchè da joy bud è bravo vuoi che fai da giocare con il joystick? dicono che è meglio giocare con il peschiero oh cazzo, che culo no io senza scherzare sto veramente da una settesera no no con il ground no devo avere sempre il playground oh cazzo oh cazzo quanto forse cazzo cazzo frena muoi mi muoi mi muoi mi muoi mi muoi come fucking go baby come fucking go baby come shit ok raga io basta gioco solo barretto raga io gioco solo barretto raga io gioco solo barretto perchè da sono bravo da no no sto a bocca porca vacca che è bravo porca vacca quant'è cazzo sei quant'è cazzo sei quant'è non andavo io non andavo io non andavo io finché non l'ho preso infatti allora a lui il primo colpo gli ha dato una barrettata l'ho preso e lui l'ho preso ok voglio che faccio solo barretto guarda no no ti ho fatto con shit che cazzo si che cazzo non si ne va con me solo io riesco a farlo no cazzo davvero poi devo usare pure pompe tu puoi usare pure pompe si tu puoi usare tutte le armi solo io posso usare solo barretto tu quel barretto non hai capito tanto è bravo tu tu guarda ai shit buona scala gialla scala gialla scala gialla l'ho preso il nerd cazzo mi sveglio il colpo questa cacchina porca mi ha preso il muro cazzo ma dio salto ma ti faccio così che fai e mi ,'' ma ma cazzo non la sento il e però ma che c'è quello il barretto tu non sei tanto bravo che il barretto lolli lollo non puoi di che sei tanto bravo nooo non mi ha sbagliato il coso eh io che devo ricaricare tutto eh no che che mica io quando devo ricaricare ho detto raga spezza che sti cazzo che cazzo sto facendo ma non mi ha aiutato eh perché io toltaio quel barretto oh ma cazzo ma come ho fatto 2k fa una lana e non molti raga che cazzo sto facendo che cazzo sto facendo raga 24 ma do non mi ha fatto il pelo no ma non è che ti faccio il pelo è che ti faccio il castito cazzo ma no no mi disfaccio nooo guarda lollo dai mi distorce da sta vita raga solo io lo so fare quello lollo che stai fare tu lollo no porca puttana non mi ha dato il burino però che cazzo diventa di male cioè boh 150 siiii 150 la più cioè di barretto più la compata e io ho fatto io ho massato l'olio va va bene l'olio 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 madonna ganna rimani in volo o ti prendi in volo scommetti no cazzo mi stanno mettendo nel party uuuu mentre stavo in volo 392 mentre stavo in volo 300 me la clipo io me la clipo